Buongiorno a tutti, vi parlo dalla provincia di Grosseto, nel cuore della Maremma, dove con la mia famiglia ormai da più di tre generazioni abbiamo un'azienda agricola di vacche dal latte. Mungiamo circa 240 animali, tutti quanti fecondati con la tecnica dell'incrocio a tre vie. Ho conosciuto e ho iniziato a usare i test di non gravidanza dopo averne parlato con un socio allevatore, anche lui della Maremma, con il quale stavamo condividendo le difficoltà che si incontrano proprio per quanto riguarda la riproduzione degli animali. In Maremma ci sono pochi veterinari e si riesce a fare circa un passaggio di diagnosi al mese. Questo fa sì che le diagnosi vadano dai 34 ai 45 giorni circa e quindi si va a perdere giorni sulle non gravide. Grazie.